Lo slogan recita un paradiso da scoprire e Villagrande, strisali e una perla dell'ogliastra. Grupo folk San Gabriele. Michele Agus dette i suoni dell'organetto per questa formazione che dedica il suo nome a San Gabriele appunto. Villagrande immersa nei monti ma è un paese che guarda verso il mare e comprende anche la frazione di Villanova-Strisali. Si festeggia Santa Barbara nel mese di luglio, San Gabriele il patrono ad agosto. Il costume tradizionale di Villagrande è molto caratteristico e si distingue per la semplice orgoglio di una Sardegna che come dicevamo e abbiamo detto più volte, ancora una volta si racconta sia attraverso le sue tradizioni e la sua cultura, ma una Sardegna che ritrova quella che è un'emozione del tutto particolare, uno spirito identitario che nei più giovani ovviamente vede il futuro delle nostre tradizioni. Ricche le ganciore d'argento come potete vedere nell'abito tradizionale femminile. I Villagrande sono sganciosi di freno che onornano il corsetto e il copricapo su colore. Villagrande-Strisali che si racconta attraverso le sue tradizioni che vengono portate avanti con tanto orgoglio e tanta fierezza. Dopo il gruppo Forza San Gabriele, Villagrande, quindi nel cuore dell'Ogliastra il passaggio...